Questa è la storia di un panino speciale, che aiuta il mondo a non farsi del male. Un'acqua, farina, lievito e sale, cotto nel forno d'energia naturale, perché acqua, aria e quantità, olio prodotto dall'elettricità, salame, formaggio, chilometro zero, per non inquinare tutto l'armesfera. L'acqua che mamma ha usato per lavare il lattoghino, la usa il papà per innalziare il giardino. Le patatine non mi faranno male, ma l'olio che serve è un rifiuto speciale. Gettarlo nel lavandino non è da fare, non deve finire a nuotare nel mare. Piatte posate che usa per mangiare, è tutta plastica da riciclare. E' attenzione che non finisca nel mare, perché l'ecosistema si può contaminare. Lo scatto che avanza non gettarlo via, puoi darlo all'amici della fattoria. Il cibo avanzato può diventare importante, nutrire le terre come fertilizzante. Se invece di buttarlo via farai la carità, aiuterai i grandi a sconfiggere la povertà. Questo è un messaggio molto interessante da mettere nella gente per 2030. Mi sono sicuro, è davvero importante. Le vani al mio futuro, per quando sarò grande. Grazie a tutti.